È chiaro che il Movimento 5 Stelle non fa alleanze strutturali, ma fa alleanze sui temi. Se andiamo sul reddito di cittadinanza, il Movimento 5 Stelle non vede allora che altre forze politiche si condividano un tema di questo tipo. Per ora stiamo cercando di allearci con le forze sociali, infatti Don Ciotti ha aderito a questa campagna sul reddito di cittadinanza da portare anche nella città, nelle piazze e speriamo che anche le altre forze politiche. Noi sui temi siamo disposti ad allearci e voglio sottolineare un aspetto. Ogni volta che il Movimento 5 Stelle ha prestato i suoi voti al PD, in due occasioni voglio ricordare, quello dell'eliminazione dei senatori a vita e quello in cui si aumentavano le pene per lo scambio politico mafioso, c'è stato un diktat di Forza Italia e per cui il PD è ritornato nell'ovile di Berlusconi. Quindi è il PD poco credibile... Detta così sembra proprio una perzelletta. È poco credibile quando noi cerchiamo di votare insieme e le abbiamo votate delle proposte per i cittadini italiani e poi il PD fa dietro fronte.